Prende la parola Don Devo, il ministro della giustizia, il padre che non saluto e gli sinceri auguri di un po' di loro. Rivolgo il mio deferente saluto al signor Presidente della Repubblica, a tutte le autorità e ai familiari delle vittime della mafia. Il tributo che noi oggi dedichiamo, in questa solenne cerimonia, a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, non è soltanto il riverente ossequio alla memoria di due eroici magistrati. Esso riassume il riconoscente sentimento dell'intera nazione nei confronti di tutti i servitori dello Stato che caddero per mano della criminalità organizzata e dei terroristi nell'adempimento del dovere. E tuttavia, come ogni nazione è rappresentata da una bandiera, anche questa lunga schiera di martiri è personificata nel modo più significativo da queste due vittime della violenza mafiosa. Perché vi è un lungo tempo riassunto nella dedica breve scolpita all'esterno di questa aula austera. E' il tempo di chi ha raccolto le migliori energie del Paese, quando la fede nella legge sembrava affievolirsi, quando la speranza nella convivenza civile sembrava svanire e quando restava soltanto la carità a consolare le nostre ferite. Falcone e Borsellino seppero ridare questa fede e questa speranza e se oggi siamo qui a riaffermare la presenza dello Stato nella lotta al crimine, lo dobbiamo anche a loro e soprattutto a loro. Falcone e Borsellino erano stati chiamati all'ufficio di istruzione di Palermo agli inizi degli anni Ottanta da Rocco Chimici, che poco dopo sarebbe stato ucciso in un attentato con un'autobomba. Costituirono il primo pool di magistrati investito dal compito di indagare i mafiosi con criteri nuovi, ispirati al coordinamento e a una lungimiranza strategica, nella convenzione che la tradizionale delinquenza isolana si stava organizzando con criteri professionali e gerarchie definite, insinuandosi nei rapporti tra malavita e finanza e tra quest'ultima e la politica. I due indagarono in Europa e oltreoceano, acquisirono documenti riservati e conti bancari e soprattutto ascoltarono vari pentiti distinguendo abilmente quelli veri da quelli falsi. Fu un lavoro monumentale, ma quando nel febbraio del 1986 i 460 imputati vennero portati alla sbarra, le prove erano solide. E il 16 dicembre 1987, dopo decine di udienze e 36 giorni di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise di Palermo irrogò una serie di condanne severe. Per la prima volta nella storia del Paese, Cosa Nostra era stata decapitata con la sola forza del diritto e nel rispetto della legalità costituzionale. Il simbolo di questa impresa vittoriosa fu Giovanni Falcone, ma il nome di Borsellino gli fu sempre associato, prima come un complemento necessario, poi come naturale e legittimo erede. Questo successo, come talvolta accade, fu seguito da polemiche corrosive. Falcone e Borsellino erano magistrati svincolati da ogni parrocchia ideologica e motivati esclusivamente dal rispetto della legge. Ed è doloroso ricordare che proprio da una parte della magistratura furono formulate nei confronti di Falcone delle critiche e delle insinuazioni che ne addolorarono l'ultimo periodo di vita. Egli tuttavia non si arrese ed elaborò il progetto di una struttura unica, con competenza nazionale, per indagare sulla invadenza mafiosa. Purtroppo non fu lui a essere il primo reggitore. Sopportò questa umiliazione con la virtù dei forti e l'ironia degli intelligenti. Quando fu chiesto a Giovanni Falcone se avesse paura, lui rispose che i vini muoiono più volte al giorno, i coraggiosi muoiono una volta sola. E' una frase molto bella che appare nei frontespizzi dei vari libri che gli sono stati dedicati e che, come tutti sanno, è stata tratta dal Julius Caesar di William Shakespeare. A lui e a Paolo Borsellino vorremmo qui dedicare le parole che lo stesso grande drammaturgo inglese attribuì a Enrico V prima della battaglia di Agincourt. Non vorremmo morire in compagnia di alcuno che temesse di esserci compagno nella morte. I vecchi dimenticano, ma chi ha combattuto con noi e sopravviverà a questa battaglia mostrerà con orgoglio le sue ferite. E noi, noi pochi, noi pochi felici, saremmo ricordati per sempre. Ecco, i nomi di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino saranno ricordati per sempre per aver servito il loro Paese con professionalità e tenacia. In loro onore, l'impegno dello Stato nella lotta contro la criminalità non verrà meno e sarà potenziato nella qualità del personale e nell'efficienza delle strutture. Ma al di sopra delle risorse umane e finanziarie dovrà sempre illuminarci, come forza ispiratrice, il coraggio di questi due magistrati. Perché, come ci insegnava Tuccivide, la felicità è libertà e la libertà è coraggio. Grazie.